a lo sai che non ci sono più le giostre vabbè ma è normale se fate a morire non loro dicono che non guadagnano niente ma cosa loro dicono che non guadagnano niente cosa sono un casino di soldi sono più di 100 euro se c'è il gamer che fa un video al giorno cosa quando stiamo pinguino no 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 niente un hit da qua dentro mi è stato retta la vederla grande si chiamano trollate con no no vede non gli è entrato neanche un attraverso ora te le palle Distrutto uno Io mi sto occupa dell'altro Io non vedo più coltato distrutto 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 ma se quanto sono migliorata a calcio un botto E non lo vediamo io sì io sì a casa mia facciamo la live rift rift o vengono tanto C'è una mira impiccabile questo è arrivato da dietro mi ha visto mi sono maniato io sei ma te che rompe le palle io Aspettate ti ho avuto il scudo L'altro team un altro team vaffanculo mi ha giampato gli ho levato 20 Questo mi finisce Dai ma che cazzo da dietro Guardalo guardalo Un altro team ancora c'è sta Rift vale più a rift Eh cazzo eh no Non ti dico una cerchina Che cazzo è L'ombra No non la vuoi cà tanto Bravo No Vabbè tanto Io esco là vanno squagliato Eh io gli ho fatto lecce al coniglio bastardo Banni dark bunny Incubanni Ma guarda che c'è No no Appena fatto Ci vuoi andare Ci vai Io devo Vengo dentro sto garage Ah no manca tanto Per si andrà Porco troia Ora che lutto Eh Vabbè prova a fare i bot Prova a fare i bot Non mi spara Non mi spara No 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 stai tranquillo Eh non mi spara Eh Non mi spara Non mi spara Non mi spara Dobbiamo andare in safe su Dobbiamo andare in safe su Lutate un attimo sta casa Vedi un po Oh No attento cabri Oh Oh 33 33 Uno quasi a terra Questo è labissimo Eppure C'era pure poca vita Da qua sotto 23 Il stato Vado Mi fanno qua No 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 da skin Subbito Con la nuova skin Prima partita Subbito No da skin E non sono morto No No Il sottotire Il ADA Compro No lo so Un 1960 Grazie a tutti.